Capitani coraggiosi, storie di imprenditori e qui presso l'autodemolizione Gallo Pietro, una istituzione a Taranto, siamo nella zona di Taranto 2, via Rapillo San Francesco, non solo autodemolizione ma anche custodia giudiziaria, soccorso stradale, autocarrozzeria, vendita e montaggio, ricambi usati, di tutto di più. Una realtà per chi ha bisogno di curare o di rottamare la propria auto. Ho al mio fianco il braccio destro di Pietro Gallo, il fiduciario. Ho il piacere infatti di farvi ascoltare, proprio dalla sua viva voce di Egidio D'Andria, le sensazioni, le impressioni, le emozioni che si provano ogni giorno svolgendo questa attività. Intanto, Egidio, come nasce il tuo rapporto con Pietro Gallo e con questa realtà imprenditoriale? Come nasce? Nasce da una ricerca nel mercato di collaboratori, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo e da parte sua di provarmi. Dopodiché. È stato forse amore a prima vista, come si suol dire? Penso proprio di sì. Da quanti anni Pietro Gallo ti sopporta o tu sopporti lui? Mi sopporto dal 98. Quindi sono 98. Abbiamo abbastanza 23 anni. 23 anni. Per 23 anni, sì sì. Fa poco si fanno le nozze d'argento. Certo, speriamo. E quindi, dicevo, un rapporto molto, un'attività molto importante, un'andi e rivieni la mattina, la necessità di dare sempre ovviamente risposte convincenti al cliente e soprattutto fatti concreti. Parliamo di questa attività in generale. Io ho menzionato così le attività principali che il vostro bigliettino da visita reca impresso. Ma parliamo proprio della vostra giornata tipo. Tutto si svolge prevalentemente intorno alla vendita dei ricambi usati. Viene tutto abbracciato con i servizi di soccorso stradale, della rottamazione con il servizio a domicilio dei clienti. Poi la rivendita ovviamente dei pezzi di ricambio. Poi abbiamo sviluppato anche la vendita online, che è un mercato nuovo e che ci permette di farci conoscere anche a livello nazionale da tutti i clienti che ci chiedono di fornire la ricambistica. Quindi diciamo il core business è certamente la rottamazione, però sta prendendo molto piede, sta avanzando la ricerca appunto dei pezzi che i clienti chiedono. E ovviamente lo strumento online favorisce questa ricerca, è più pratico, no? Sì, più pratico, più veloce, ci permette di essere conosciuti anche a livello nazionale e cerchiamo sempre di avere qualcosina in più rispetto agli altri, a livello anche di servizi, di affidabilità, di precisione. Questo dal tonne è il segreto per gareggiare con la concorrenza, con il mercato. Parliamo un po' del rapporto con i colleghi, perché siete in tanti ovviamente, tu sei il fiduciario, quindi devi rappresentare la proprietà, però da quello che ho visto c'è un rapporto molto familiare tra di voi. Sì, in effetti uno dei pregi che abbiamo è questo di avere un certo rapporto di fratellanza fra di noi, quindi non c'è questa suddivisione di personale anziano con i giovani, ma cerchiamo di essere tutti uniti anche nel rapporto umano. Anche perché poi quando si è uniti si lavora meglio, c'è la voglia di dare il meglio al cliente, perché poi ovviamente dando il meglio al cliente l'azienda cresce e migliora la posizione di ciascuno. Certo, certo, e qui c'è la possibilità anche di crescere, quindi i giovani che prendiamo a lavorare cerchiamo di farli crescere nell'ambito lavorativo e di specializzarli quanto più possibile. Parliamo del rapporto con i clienti, quando si crea un rapporto fiduciario ovviamente il cliente non è il cliente basta, ma diventa anche un amico, diventa, trova in voi, scusate ogni tanto qualche, arriva la primavera e arriva qualche insetto ovviamente con lo sbocciare dei fiori e i pollini. Dicevo, con il cliente si crea anche un rapporto fiduciario, un rapporto di amicizia, di sincerità, alla base di tutto c'è un rapporto di sincerità. Alla base dell'attività lavorativa, soprattutto nei servizi che noi facciamo, ci deve essere e cerchiamo di farlo al meglio, di dare la massima fiducia, la sincerità, l'onestà con i clienti e non ti nascondo che c'è un ritorno da parte loro. Certo, perché il cliente quando si vede tra virgolette coccolato, ma senza le coccole, rispettato. La parola giusta è proprio questa, di essere rispettati. Io intendevo coccolato nel senso che poi magari il rapporto va anche oltre, si crea un rapporto confidenziale, di amicizia, di una battuta, un rapporto, un bel rapporto umano, perché poi nella vita siamo tutti uguali, siamo uomini, siamo donne, siamo tutte persone che hanno bisogno anche dell'altra persona, di quella parola, di quella pacca sulla spalla, di quel senso di familiarità per abbattere quel rapporto tra venditore ed acquirente, che sarebbe un rapporto troppo freddo. E dicevo, questo rapporto bello con il cliente. Sì, è proprio questo che stiamo cercando di sviluppare ancora di più e vedo che i clienti sono sempre più contenti. Naturalmente l'onestà, la fiducia e il servizio ottimale sono i presupposti per creare poi questo rapporto con questi clienti, amici. Il rapporto con il patron Pietro Gallo, nato 23 anni fa, lui è un po' il deus ex machina, il punto di riferimento. Lui nasce molto prima dei 23 anni, non è un rapporto di dipendente d'attore di lavoro, ma è un rapporto di amicizia. Non c'è quel rapporto freddo, quel distacco che di solito ci sono in grosse aziende, tra il titolare e il dipendente. Cerca sempre di essere un fratello per tutti. Poi c'è anche Daniele, il genero, e quindi anche Daniele è un punto di riferimento. Poi è giuventino come me, quindi è una cosa che va... Siamo in tre, quindi abbiamo messo gli interisti in minoranza, già è una cosa positiva. Certo, certo, certo. Meno male che c'è lui, ed è lui il responsabile, è il promotore proprio di questo sviluppo dell'evento. La nuova generazione, le nuove leve tecnologizzate. Esatto, quindi abbiamo questa nuova attività di vendita online, proprio fatta da lui, sviluppata e seguita personalmente da lui. E Pietro Gallo è sempre così, la chioccia, no? Come il punto di riferimento. Certo, certo, certo. Noi siamo sotto le sue braccia, qualsiasi problema ci rivolgiamo a lui e nella maggior parte dei casi ci sta a fianco. In tutti questi anni, così, a memoria, se ti viene in mente qualche episodio bello, qualcosa in generale nell'attività, che ti è rimasta impressa? Ecco, sono su due piedi, sono tanti episodi, perché ogni giorno è una storia nuova, non è mai la stessa storia, tutti i giorni non è mai ripetitiva. Quindi abbiamo sempre nuove cose, nuove situazioni, nuove vicende, nuovi problemi, soprattutto problemi che dobbiamo affrontare, che ci mettiamo insieme per cercare di risolverli. Quindi di particolare non ricordo. Diciamo che c'è un discorso di continuità. Ecco, negli anni, 23 anni, chiaramente l'attività si è evoluta, soprattutto dal punto di vista tecnologico, perché chiaramente la tecnologia va avanti. Quindi, vent'anni fa, quindi, torno al 95-96, dico per dire, 16 anni, 96-2006, 2006-2006, una ventina di anni fa, comparivano i telefonini per la prima volta, dico per dire. Ricordo nel 95-96, quindi 2006-2016, sono 25 anni, i primi ETAX, dico così per dire, per dire come il mondo è cambiato, come c'è tutta un'evoluzione tecnologica. Ecco, da 23 anni, partendo da 23 anni fa ad oggi, certamente tu avrai visto che il mondo è cambiato, davvero è cambiato. Certo, certo. E anche cambiato nell'applicazione del vostro lavoro. Beh, certo. Prima era tutto manuale, era tutto basato sulla facoltà da parte del dipendente nel sfruttare al massimo la propria memoria. C'era molto carta e penna. C'era carta e penna. Oggi finalmente con… Clic e buonanotte. Abbiamo risolto anche il problema. Poi facciamo un po' più grandi, quindi la memoria ci sta abbandonando un pochettino. Eh, vabbè. E quindi anche la tecnologia applicata proprio per catalogare i vari pezzi. Certo, se non fai un buon magazzino con un buon sistema informatico non puoi fare questa attività. Parliamo del magazzino di tutti questi pezzi. Abbiamo visto così, facendo le immagini con Daniele, riprendendo, abbiamo visto proprio il momento della pressa, della rottamazione, ma anche tutto il magazzino dei vari pezzi che sono lì alla ricerca di un cliente, anzi è il cliente alla ricerca dei pezzi. Certo, ed è un magazzino che non finisce mai e ogni volta dobbiamo sempre aggiornarlo, togliere, catalogare, ogni volta sempre metterci le mani sopra e non si finisce mai di imparare. Poi ci sono le nuove tecnologie messe sulle autovetture, quindi i sistemi delle auto attuali sono diversi da quelli di qualche anno fa e quindi devi anche aggiornarti su questo, sulla ricambistica, sulla possibilità di compatibilità dei ricambi e andare alla ricerca sempre di software nuovi che ci possono aiutare. Bene, per concludere questa nostra chiacchierata, i giovani sono in cerca di lavoro, peraltro stiamo vivendo un periodo particolare in Italia e nel mondo, vista la pandemia e quant'altro, cosa ti senti di dire a un giovane che magari si vuole avvicinare a un tipo di attività come la vostra? Bisogna avere anche un bagaglio culturale e professionale nella nostra attività, non nasci con questa conoscenza e ci deve essere preparazione nel settore, aggiornamento, voglia di imparare innanzitutto, ambizione e se hai queste qualità è un'attività che ti dà molte soddisfazioni. Bene, ci congediamo dal nostro amico Egidio e che dire, Gallopietro con la sua autodemolizione e le attività ad essa correlate è un'eccellenza del territorio e abbiamo voluto annoverarlo tra i capitani coraggiosi nella rubrica Storie di imprenditori. Un imprenditore che fa crescere il territorio con fatti concreti, creando lavoro, creando una economia che circola e rendendo la nostra Taranto migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.